Charlie Zetteron e la sua beauty routine per avere una pelle da star La sua carriera è iniziata con l'avvocato del diavolo poi è proseguita con un Oscar, un Golden Club e un Oscar e Nectors Guild Award. Non c'è dubbio, Charlie Zetteron è una delle attrici più di successo degli ultimi 20 anni Ma la sua fama non si ferma solo a questo perché la star di origini sudafricane infatti è stata definita più volte come la donna più bella del mondo dalla stampa internazionale Merito sicuramente dei suoi lineamenti perfetti, della sua altezza statuaria di circa 1,80 metri, della genetica, ma anche di qualche rimedio e segreto di bellezza Una pelle così impeccabile a 42 anni si ottiene anche grazie a una beauty routine molto precisa, ecco svelati tutti i suoi segreti. La beauty routine della donna più bella del mondo Durante un'intervista a Elle France, Charlie Zetteron ha rivelato i segreti della sua pelle da star che ha stregato tutto il mondo Prima di tutto, l'attrice segue una beauty routine quotidiana che le permette di essere sempre tonica e mantenere la pelle elastica e luminosa, come? Ecco svelati i segreti La sua grande ossessione è la crema solare, la Teron la USA in ogni occasione, non solo quando si trova al mare o in montagna, ma anche quando esce ogni giorno per i suoi impegni di lavoro o per le attività con gli amici e la famiglia Anche in inverno la sua scelta ricade sullo schermo totale, in questo modo si preserva la pelle dai raggi solari Anche il makeup è molto lieve, poco aggressivo, non usa quasi mai il fondotinta, predilige invece il balsamo per le labbra, un po' di blush per scaldare le guance e al posto del mascara utilizza un pegaciglia La sua altezza la aiuta di certo a mantenere la linea, ma è soprattutto merito dello sport che pratica, Charlie Zetteron fa yoga ashtanga e power yoga da circa 20 anni, ma oltre a questo ama anche passeggiare con i suoi cani e fa spinning per quattro volte a settimana In questo modo può mangiare tutto ciò che vuole, senza sentirsi in colpa o dover perdere la tonicità del suo fisico La dieta di Charlie Zetteron Lattrice ha dichiarato di amare molto il cibo e non di seguire particolari diete, specialmente nell'ultimo periodo In passato però, Charlie Zetteron aveva seguito la dieta Mkate, insieme ad un'altra star di Hollywood, la bellissima Jennifer Aniston La dieta Mkate aiuta a perdere peso, a diminuire il gonfiore e a combattere la cattiva digestione. In realtà si tratta di un vademicum per mangiare meglio e in modo più sano, niente snack, tanta acqua, frutta e verdure, meglio se biologiche Di particolare importanza sono i semi, come quelli di lino, di zucca e di girasole, che sono pieni di sostanze nutritive ed energizzanti La dieta prevede di annotare in un diario ogni giorno il proprio regime alimentare, segnando accuratamente che cosa si mangia In seguito ci si deve prefiggere un obiettivo quotidiano, ogni settimana prevede due giorni di dieta detox per purificarsi e attività fisica per tre volte a settimana .